Allora, siamo qui legati come dei salami perché adesso, ragazzi, la sfida è quella di preparare degli uramaki, ok? Quindi faremo del sushi. La difficoltà sarà naturalmente che abbiamo i polsi legati e ci daremo il cambio. Quindi ogni 15 secondi gireremo e, a dipendenza di come sarà, insomma, o io o Eddie o Daniel o Jacopo, ok? Sottolineare comunque la difficoltà anche nel fare il sushi, che è molto... Sì, non da sottovolutare. Non è evidente. Vorrei ricordare a casa che nessun tipo di alimento è stato maltrattato e non buttiamo via niente. Ogni cosa verrà data al pubblico, sperando che poi riesca a vivere una vita decente e sana. Siamo pronti. Santella, sono pronti. Pronti? Dani, sei carico? Carico come una bomba. Ok, Jacopo, credo in te. E allora? 3, 2, 1, via! Ah, si va, si va, si va, si va. Dani, seguimi, ti sto facendo un attimino. Sei U? Volevo chiederti. Ma perché ci sono dei fogli neri? Stai andando bene, eh? Aspetta, Dani, vado. Sì, sì, benissimo, benissimo. Prendo il riso, allungati. Non vedo però se lo stai facendo bene. Sì, sì, no, perda, Dani, vai giù. Ok, cambiamo. Ok, gira, 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 gira. Ok, che devo fare? Vieni qua, Jack. Metti il riso. Jack, sto volando. Ok, il riso c'è. Cioè, anche questo. No, devi spantecarlo, spanteca un po'. Dai, vieni, vieni, vieni. Cos'è spantecare così? Vieni, 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 vieni. Finisci il mio. Bravo, bravo. Aspetta, Dani, come è in mezzo? Vieni un po' d'acqua rotta. Aspetta. Fai qualcosa, Edi. Aspetta. Ok, abbiamo piaciuto. Vieni, 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 da lì. Fai mi spaglio. Allungati, allungati. Cambio, cambio. Edi, cos'hai fatto? Ma cos'è questa roba? È un polpettone. Fai tagliare tutto. Bravamo, prendi il salmone, prendi il salmone. Ragazzi, permesso, stiamo lavorando qua. Per favore, occhio alla mano. Ok, Gigi, affettalo, affettalo. Fantastico. Grande. Devo arrotolare, devo arrotolare. L'acqua, arriva, arriva. Vieni, vieni, dai. Non vedo, ma tipo per te. Bravo. È bagliato, è bagliato. Ok. Ragazzi, ragazzi, mi sono impossibile. Cosa ti ho fatto? Cosa faccio, lo taglio? Vai, Dani, che lo scendiamo. No, è mio quello, Jacopo. E dopo di tagliarlo? Allungati, allungati, allungati. Chiuderlo? Ok. Con l'acqua, con l'acqua, e dopo lo tagli. Ah, quello, ragazzi. Lo taglio, dove è l'acqua? Vai, taglio, taglio, taglio. Vai, vai. Edi, giusto, ha lasciato il cozzello. Edi, tu la gioveva il modello. Grande, Dani. Ma l'abbiamo messo il cetriolo? Eh? Non ho capito. Oh, ma ci rubano le cose, ci due. Brava. Con anche la presentazione, eh. Ho fatto l'impiattamento. Cavoli, Dani, non mi ha messo il cetriolo. Vai, ti cambio. Non lo fare. Tagliate. Mamma mia. Taglio. Ma, Edi, che cosa combina? Dai, spacca, spacca. Spacco tutto, spacco tutto. Eh, ma inventiamoci un po' di... Cos'è questa cosa? Scusami, Edi. Sto così. Dai, Dani. Grazie. La salsa di soia. Grazie. Aiuto. Da notare la classe del taglio. Puttami l'ultimo goccio. Grazie. Ok, cioè. Allora, vorrei fare vedere, Petta, partiamo dal presupposto che questo teoricamente non va servito. Vorrei fare vedere, non solo ai nostri amici a casa, ma al nostro pubblico, cosa dovranno mangiare. Non si spiega niente. Allora, no, vogliamo dire... Dai, l'hai incontato. No, ragazzi. Ok. Guardate, questo è quello che va spesso. Guarda che va in giro. Ne fatti. Edi. Il video è tantissimo. Ho avuto l'ustro. Va bene, insomma, direi che i vostri hanno... Ho subito un incidente. Raga, posso dire che ci siamo impegnati un sacco? Bravi, Pantellazze! Questa è una tecnica di tanto. Ma per esempio c'è il tocco femminile di Jacopo, esattamente. A me sembra buono, posso? Giusto per... Secondo me mi aspetta l'uasare. Beh, ma è buono. Assaggiamo, assaggiamo, ragazzi. È buonissimo. Ne volete un po'? Swag, vieni a prendere un pezzo. Buono. Prendi... Prendi uno e poi risiediti pure. Quello che vuoi. Genuino. Ok, vai. Una certa classe. Grazie, grazie.